treci partenti ecco partiti, questi fanno quattro giri ecco l'ascolta tecnica gruppo sfilato in fila indiana ancora gruppo, gruppo sfilato ecco ancora gruppo compatto questi sono in pochi bravissimo numero 7 bravissimo vai vai non puoi scappare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti